Un assoluto caotico disastro, così Barack Obama ha definito la gestione della crisi da Covid-19 da parte del Presidente Trump. La sua replica non tarda ad arrivare. Stiamo avendo grandi riconoscimenti per la gestione della pandemia di coronavirus, specialmente per il precoce divieto d'ingresso negli USA dalla Cina, fonte dell'infezione. Confrontate questo con il disastro fatto da Obama e dal sonnolento Joe Biden con l'influenza suina, scarso apprezzamento, cattivi sondaggi, non avevano un'idea, ha tweetato il Presidente. Secondo Trump, infatti, il virus sparirà senza vaccino, anche se a costo di migliaia di vittime. Intorno alle 95.000 la sua stima. Il commento dell'ex Presidente degli Stati Uniti è contenuto nell'audio di una conversazione privata online tra l'ex capo della Casa Bianca e membri della Obama Alumni Association, diffuso da Yahoo News. Nella conversazione, volta a incoraggiare il sostegno per il candidato democratico Joe Biden alle presidenziali di novembre, Obama sostiene che col voto di quest'anno si tratterà di combattere le tendenze di lungo termine in cui essere egoisti, tribali, divisi e vedere gli altri come nemici sono diventate l'impulso più forte della vita americana. A suo dire, è proprio questo trend che in parte spiega perché la risposta degli USA alla pandemia globale è stata così debole a macchia di leopardo. Per questo, spenderò tutto il tempo necessario per fare campagna nel modo più forte che posso per Joe Biden, ha detto Obama. Gli Stati Uniti registrano più di 25.000 nuovi casi di coronavirus, portando così il totale dei contagi nel paese verso il milione e mezzo e un totale di decessi oltre le 78.794 unità. In isolamento anche il virologo Anthony Fauci. Il volto più noto della Task Force della Casa Bianca contro il coronavirus comincia un periodo di isolamento di 14 giorni dopo un contatto non ravvicinato con una persona dello staff della Casa Bianca risultato positivo al test, portando così a tre gli esperti sanitari della Task Force in autoquarantena dopo Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention e Stephen Hahn, capo della Food and Drug Administration. E intanto il numero delle persone contagiate dal coronavirus nel mondo ha superato i 4 milioni, tre quarti dei quali registrati tra Europa e Stati Uniti, che rimangono il paese col maggior numero di infezioni. Segue la Spagna con 223.578 casi e l'Italia con 218.268. Il numero totale dei decessi a livello mondiale, secondo la John Hopkins University, è di 279.321, ma a preoccupare la Russia, con oltre 200.000 casi e quasi 2.000 morti. L'estate 2020 ci sarà questo il succo delle dichiarazioni del Premier Conte al Corsera. Il numero 1 di Palazzo Chigi precisa che non sono ancora certe le tempistiche e le modalità. La situazione verrà meglio delineata nelle prossime settimane, dopo aver ascoltato le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. La linea guida sembra essere quella di vacanze italiane. Questo porterebbe alla risoluzione di due questioni piuttosto spinose. La prima è quella che riguarda l'economia interna del settore turistico, dopo questi mesi di totale immobilismo. La seconda invece è relativa alla drastica riduzione del traffico aereo, con conseguente azzeramento del rischio per eventuali contagi di ritorno. Questo escluderebbe l'insorgere di nuovi ceppi virali, spegnendo sul nascere la possibilità che si verifichino fuoco le importanti del morbo. La chiave di tutto però sarà rappresentata dal buon senso dei cittadini. Solo in tal modo si eviteranno conseguenze spiacevoli e qualunque sia la destinazione sarà, come cantata da Grignani, un paradiso. Europa tra dubbi finanziari e indici di contagio. Da qualche giorno è tornata la sigla MES, ma affiancata all'etichetta Ultralight. Dalla Commissione Europea si attendono risposte in merito alle misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Proprio il 9 maggio, giorno in cui si celebra la giornata dell'Europa, il premier italiano Giuseppe Conte si era detto fiducioso su un'apertura della linea di credito da 240 miliardi, dedicata alle spese sanitarie, senza condizionalità e con monitoraggio ultraleggero. Il tutto sotto il cappello del meccanismo europeo di stabilità, fortemente contestato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Sul piano dell'emergenza sanitaria, novità dalla Francia. Da oggi si allenta la chiusura totale, più libertà di movimento ai cittadini, riapertura delle scuole delle infanze primarie e una serie di attività commerciali, ma su base volontaria e a discrezione delle autorità locali. La riapertura delle scuole medie è fissata per il 18 maggio, ma solo nelle zone dove il tasso di contagio è basso. In Germania c'è un lieve aumento dei contagiati. Nelle ultime 24 ore sono stati confermati 357 nuovi casi di Covid-19, circa 170.000 il totale dei positivi, 7.500 i deceduti, di cui 22 nelle ultime ore. Sempre in Germania è partito il braccio di ferro con l'Unione Europea, oggetto del contendere la politica fiscale nell'Eurozona. La Corte Costituzionale tedesca è intervenuta sui programmi della Banca Centrale Europea riguardanti il quantitative easing, dichiarando parzialmente incostituzionali i programmi attuati dopo il 2015. Il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito con fermezza che la politica monetaria dell'Unione è di competenza esclusiva e che il diritto comunitario ha il primato sul diritto nazionale. Le sentenze della Corte di Giustizia Europea sono vincolanti per tutti gli stati membri. In conclusione si vocifera dell'apertura di una procedura di infrazione proprio contro la Germania. Fa discutere non poco il decreto rilancio. La norma, che contiene le manovre per far ripartire il Paese dopo l'emergenza Covid-19, subisce un nuovo brusco stop. Il pomo della discordia è il comma del decreto che prevede la possibilità di un condono su interventi e dirizi già presenti sul territorio se conformi ai piani attuativi di riqualificazione urbana. Un punto che fa storcere un po' il naso a gran parte della maggioranza, considerando che il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, aveva annunciato in Parlamento che i condoni non rientravano nelle linee d'azione del governo. A segnalare il comma incriminato è stato il coordinatore dei Verdi Angelo Bonelli, che ha parlato chiaramente della presenza del documento di una sanatoria degli immobili abusivi tramite la modifica dell'articolo 36 della legge numero 380 del 2001. Il Movimento 5 Stelle è così insorto, soprattutto attraverso il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, il quale ha subito messo le cose in chiaro, dichiarando che non avrebbe mai accettato un condono. A questo punto la corposa bozza da 767 pagine e 258 articoli, inizialmente da una nominata Decreto Aprile, sarà oggetto di una nuova revisione per quanto riguarda la parte del condono edilizio. Nel frattempo vengono confermate tutte le misure previste dal decreto, tra cui la proroga fino a 9 settimane della cassa integrazione, con relativa semplificazione delle procedure di deroga, l'aumento dei giorni del concedo parentale, il diritto allo smart working per chi ha figli fino ai 14 anni, bonus per coffe badanti e il nuovo reddito di emergenza, il quale consiste in due quote tra i 400 e i 800 euro ciascuna per le famiglie con un reddito di sé compreso tra i 10.000 e i 15.000 euro. Sono comprese anche misure di sostegno al sistema sanitario, alle imprese, al turismo e alla cultura, con un super bonus fino al 110% sui lavori di riqualificazione energetica e antisismica. Per la manovra, il governo ha sanziato risorse per 55 miliardi, che inevitabilmente andranno ad influire sul deficit annuale. Il valore del decreto però è ancora lontano e i mugugni cominciano a farsi sentire. Una vita passata a proteggere tesori culturali internazionali sin dalla seconda guerra mondiale. Il 4 maggio è venuta a mancare, a causa del covid, Motoko Fujishiro, l'ultima rappresentante femminile dei Monuments Men, il gruppo che si occupò di proteggere i patrimoni storici ed artistici internazionali dal saccheggio dei nazisti. Nello specifico, Fujishiro si occupava di trascrivere rapporti e corrispondenze che arrivavano sul campo dei Monuments Men. Ha dato la notizia della sua scomparsa a Robert W. Edsel, autore dei romanzi Monuments Men e Monuments Men Missione Italia. Quest'organizzazione ha operato in tutto il mondo, con i suoi 345 rappresentanti provenienti da circa 14 nazioni. Molti avevano esperienza come direttori di musei, curatori, storici dell'arte, artisti, architetti, bibliotecari ed educatori. La storia di Fujishiro si divide tra due continenti, l'America del Nord e il Giappone. Nata a Boston nel 1927 dai immigrati giapponesi, è stata costretta a trasferirsi a Tokyo dopo l'attacco a Pearl Harbor. Solo dopo molti anni Fujishiro riuscì a tornare negli Stati Uniti, dove si laureò in inglese e intraprese una carriera accademica. Fino all'ultimo giorno, la testimonianza di Motoko Fujishiro è stata fondamentale per trasmettere di generazione in generazione l'importanza di proteggere l'arte. Un'attesa è rimasta vana. Ieri sera sulla 7 è andata in onda non è l'arena. Tolca al centro dell'attenzione mediatica per lo scontro tra il ministro della giustizia Alfonso Bonafede e Nino Di Matteo, PM e membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma a differenza di sette giorni fa, nessuno dei protagonisti è intervenuto in diretta. Giletti ha ricostruito la vicenda, riprendendo gli interventi telefonici effettuati dai due nella puntata precedente. È emerso che il ruolo di direttore del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, fa gola a molti perché economicamente è una delle cariche più remunerate. Inoltre è stata messa in dubbio l'affermazione di Bonafede, il quale ha ribadito che il ruolo dato a Di Matteo, ovvero direttore generale degli affari penali, è importante quanto al DAP. Ma nella trasmissione è stato chiarito che il posto dato al PM, ricoperto in passato da Giovanni Falcone, negli anni è stato depotenziato e declassato e soprattutto era un posto già occupato da Donatella Donati. Una storia che si infittisce di particolare e che difficilmente avrà una definitiva chiarezza. I ruoli citati sono tutti attribuiti su nomina fiduciaria del ministro, quindi Bonafede ha scelto liberamente e senza nessun vincolo. Appare molto fantasioso poter pensare che lo stesso ministro possa esprimere le reali motivazioni che l'hanno spinto a scegliere il dimissionario di Basentini a capo del DAP e non Nino Di Matteo. Grazie a tutti.